Benvenuto a tutti da Nonna Stefania, vi faccio vedere velocemente, chiamiamolo l'unboxing della bilancia connessa della Mulinex. Se sentite rumori strani sono in giardino perché era una bellissima giornata e volevo un po' di luce naturale, una volta tanto nei video. Quindi spero non si senta troppo lo spruzzatore che sta bagnando il prato. Allora, bilancia che è apparsa da pochissimo tempo sullo store della Mulinex italiano, bilancia che viene venduta da Tefal da un paio di anni, se si va a cercare la manualistica la troviamo in francese se non ricordo male, e la bilancia è lei. Eventualmente poi nell'info box vi metto il link al manuale se volete dare un'occhiata. Vi ripeto però è solo in francese. Allora, innanzitutto, come vi dicevo, questo l'ho ordinato direttamente da Mulinex, shop del sito Mulinex Italia. Una noticina veloce sullo shop. Tempo di consegna circa una settimana. Non mi piace, ma questa è una cosa personalissima, la gestione dell'ordine, è perché ti arriva la conferma in francese, una mail in francese, e perché non ti arriva assolutamente nient'altro, se non che ti ritrovi il corriere con la bilancia consegnata. Come è successo a me ieri. Il numero di spedizione non risultava tracciabile, e non è arrivata nemmeno una mail che avvertisse che l'oggetto era stato spedito. Non c'era una data di spedizione precisa, quindi mi aspettavo di riceverla questa settimana, ma non ieri. Detto questo, ecco qua la fotocopia della fattura di acquisto. Non sono riuscita a capire se arrivo o meno dalla Francia. Devo ancora studiarmi bene le etichette sul pacco di spedizione. Questo lo facciamo fare al cameraman, che è una delle sue passioni, andare a investigare su queste cose. E passiamo alla bilancia. Allora, quali caratteristiche ha la bilancia? Intanto vi apro il pacchetto. Io ci ho già dato un'occhiata dentro, però non l'ho ancora accesa. Micro manuale di istruzione veloce sulla pagina interna della scatola. Come al solito il cameraman mi fa i gesti, ma non ho capito. Notate che non c'è l'italiano. Ecco, appunto, non c'è l'italiano. Fra l'altro, se andate a cercare l'accessorio sull'app italiana, non la provate. E lì per lì ho detto, cavoli, adesso mi devo mettere l'app in francese, perché se no non la posso usare, non posso fare la recensione. Piccolo trucchetto, andate sull'app. Non ve lo posso far vedere in questo momento perché sto riprendendo col mio cellulare. Anzi, il cameraman sta riprendendo. Io, come al solito, chiacchero. E andate sotto le impostazioni. Andate sotto la lingua. Mettete temporaneamente in francese. Vi appaiono i quattro modelli di Companion. Vi appare la bilancia. Rimettete in italiano. Avete anche la bilancia nella lista degli accessori. Ora poi vediamo se basta questo trucchetto per usare il tutto in italiano o se per un po' di tempo bisogna andare in francese. Sì, suspense, dai, ho aspettato a farvela vedere. Sono cattiva. Eccola qua. Allora, l'ascellofaniamo subito perché immagino che la ripresa non sia il massimo. Dunque, all'interno ci sono il solito garanzia internazionale. In più lingue. Un enorme manuale di istruzioni. Sono sei paginette, come vedete. E io ancora non l'ho guardato, ma mi sa che l'italiano c'è. C'è, 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 c'è. Qualcosa in italiano c'è. Eccolo qua. Come vedete non è che ci sia una gran manualistica. Infatti ce lo siamo andati appunto a cercare e a vedere in francese. E ovviamente la marchiata Tefalle, non Moulinex, il manuale che abbiamo trovato, ma è sempre lei. D'altra parte, il Tefalle fa parte del gruppo, insieme per esempio a Roventa e a Krups, se non mi ricordo male. Giusto? E anche l'Agostina, se vogliamo mettere qualcosa in italiano. Allora, ci sono le batterie, che è la cosa che hanno quasi protetto di più. Un po' le qua. E questo è utile saperlo comunque perché così non le dovete comprare. Qua sotto. Allora, la bilancia facciamo così, togliamo e la riappoggiamo qui sopra, che forse c'è meno disegnini che distraggono. Allora, diciamo le cose come stanno. Carina è decisamente carina, almeno a me esteticamente piace molto. Pulsante di accensione, pulsante per tornare indietro, ora poi questo vi spiego a cosa serve, la tara, per confermare i dati e per cambiare l'unità di misura in cui andremo a pesare. Quindi, da questo punto di vista, non è diversa da una bilancia da 10 euro. A parte appunto il famoso tastino, torna indietro. Che particolarità ha questa bilancia? Allora, direi due cose fondamentali. La prima è che pesa, secondo le specifiche tecniche che trovo nella scatola, da un grammo fino a 10 chili, ovvero è, in teoria, due volte più precisa di una bilancia normale e arriva a pesare fino al doppio. Normalmente le bilancine che si comprano e si usano in cucina pesano con una precisione ai 2 grammi, specialmente sulle piccole quantità, e arrivano normalmente a 5 chili. stiamo parlando di quelle da 10 euro. L'altra particolarità è che questa bilancia è una bilancia bluetooth, ovvero si interfaccia con l'app della Moulinex e vi permette di pesare e seguire la pesata utilizzando l'app. Quindi per chi lavora in modalità assistita, quindi utilizzando l'app quando va a cucinare, la bilancia dovrebbe con questo sistema evitare errori di pesatura dovuti alla distrazione o al famoso utilizzo che fanno molti francesi di non dare tutti i millilitri ma dare le quantità in centilitri, cosa che uno lì per lì legge, dice ah 50, 50, 50, no 50 millilitri sono diversi da 50 centilitri, per cui poi intanto qualche ricetta risulta improvvisamente, stranamente molto secca, molto asciutta. Non ho tempo adesso per farvela, io ve la posso mettere le batterie, ve la posso accendere, ma non ho tempo perché purtroppo stamattina poi devo andare al lavoro per farvi vedere come funziona. Allora, qui le batterie come al solito sono chiuse in modo che se non mi fermo un attimo e prendo le forbici non ve le apro, quindi piccola pausa e apertura delle batterie che come vedete sono completamente sigillate e non ci ho pensato che dovevo portarmi magari un paio di forbicine, a tra poco. Ecco qua, con i miei potenti mezzi, il cameraman proprio della serie, niente, non c'è niente da fare, gli uomini le mani ce le hanno più forti, allora mi dice il cameraman di dirvi sono delle batterie AAA, eh, ho già bippato, con alcaline, le istruzioni si raccomandano di utilizzare questo tipo di batterie, adesso appoggiamola qua, si vede, troppi riflessi, dunque, spero che accendendola non mi faccia poi capricci per fare il pairing, cioè per collegarla al cellulare e all'app, allora, massimo 10 kg, e comincia a lampeggiare l'icona del bluetooth perché vuol dire che vai in ricerca, allora una volta accesa parte in ricerca, noi abbiamo fatto nel frattempo, come vedete, basta sfiorarla, è sensibilissima, proprio basta quasi passarci, sfiorarla, che subito comincia a pesare, a questo punto leviamoci anche lo sfizio, 28 grammi, anzi, con la manualistica completa, andiamo un po', dicono che è precisa, sembrerebbe effettivamente abbastanza precisa, che effettivamente i due grammi, non tutte le bilance sono così precise, prova del 9, leviamo questo, se va a zero è precisa, se non va a zero, ai ai, promossa, dai, perché non è, non è da tutte, io ho un po' la fissa delle bilance, quindi, la mia deve essere sempre perfettamente tarata, a proposito di tarare, come dicevamo, qui c'è il programma, il pulsantino per tararla, e qui il pulsante per cambiare l'unità di misura, io vedo dei riflessi terribili, si vedono anche in video, no, meno male, allora, siamo partiti da grammi, millilitri, si riesce a vedere, centilitri, libre e once, once liquide, e si ritorna in grammi, vediamo, vediamo una cosa un pochettino più, più pesante, quello che sto qui a portata di mano sul tavolo, ecco qua, una cosa che mi piace è che ci metti sull'oggetto, ci pensa mezzo secondo, e ti dà il peso senza sfarfallare, e non è una cosa da poco, e se qualcuno ha la coda di paglia, non mi interessa, scusate, una frecciatina, la dovevo lanciare agli amici del bimbi, perché questa settimana, la settimana scorsa, mi hanno fatto un po' arrabbiare, sono, hanno invaso la mia pagina, giusto per parlare del concorrente, e per provocare, lasciatemelo dire, alla fine, una signora ha concluso con ciascuna, il robot che si merita, faremo delle magliette, ragazzi, se le volete prenotate, le magliette e tazze, perché abbiamo deciso che è un bellissimo motto, questo, detto questo, come vedete, nel frattempo, ho smesso di lampeggiare il bluetooth, vuol dire che non è più ricercabile, ho fatto una piccolissima prova, ma voglio cercare di farvelo vedere già con l'app in italiano, quindi ci studio un pochettino stasera, potrei già mettere il video domani, ma non ve lo posso promettere, e vi faccio vedere come si collega, praticamente il cellulare ce lo dovete pesare sopra, ve lo anticipo, perché deve essere appiccicato letteralmente alla bilancia, e poi vedremo, se non direttamente, proprio facendo la ricetta, simuleremo, comunque la cottura, la realizzazione di una ricetta, con il passo passo, con i pesi pesati, gioco di parole, bruttino, con la bilancia, una cosa, sicuramente vi staranno chiedendo, ma ci si mette tutto il Fusing Company sopra? No, direi assolutamente di no, i 10 chili lo reggerebbero anche, ma a parte la scomodità, secondo me, perché non appoggerebbe completamente, se non forse messo di traverso, non sono sicura, qui sopra, io adesso sono scesa senza portarmi giù anche la pentola, sicuramente ci sta perfettamente la pentola, quindi potete pesare con la pentola sopra, comodo, scomodo, qui, se volete, possiamo aprire un sondaggio, ma mi sa che la maggior parte delle persone dirà, ma come devo, stacca la pentola, metti sulla pentola, rimetti la pentola, in effetti non è comodissimo parere personale, io ogni tanto comunque per fare prima la pentola l'appoggio sulla bilancia che ho, quindi è più un discorso filosofico che altro, per ora vi lascio con l'immagine della bilancia che ancora non l'avete vista lavorare, a parte appunto pesare i fogliettini della bottiglietta, e ci vediamo sicuramente col prossimo video per vedere come lavora interfacciata con l'app, ah l'altra domanda che mi è stata fatta, ma è compatibile con tutti i companion? La risposta è sì, perché non si interfaccia direttamente col robot, ma si interfaccia con l'app che funziona ed è compatibile con tutti i modelli. Per ora è tutto, mi raccomando venite sul gruppo Mulinex Cuisine e i companion ricette e risate col cuco, vi aspetto sul gruppo facebook, sulla mia pagina di facebook, ovviamente sul blog mycucco.it Un saluto a tutti da nonna Stefania, ciao ciao! Buongiorno a tutti!